E' importante il messaggio che Comune e Camera di Commercio deliberano anzitempo il rinnovo della Convenzione, quindi una volontà forte di condividere la spesa della tassa di soggiorno, di poter programmare e del valore di questa collaborazione tra Comune, Camera di Commercio e tutte le associazioni di categoria del turismo, settore che è sicuramente una delle risorse economiche della nostra città. E' anche un passo aggiuntivo questa Convenzione, si vanno a identificare per il 60% del valore della tassa spese di promozione, di promo commercializzazione, di accoglienza, ma anche si sanciscono alcuni eventi importanti, quindi i rolli, il patrimonio UNESCO, le grandi mostre e le botteghe storiche. Quindi si promuoveranno un impegno a promuovere questi prodotti. La restante parte della tassa verrà condivisa in un tavolo a cui le associazioni di categoria potranno portare indicazioni circa l'accoglienza della città, ma in particolare la cura verso la città, le manutenzioni o altro. Ripeto, un passo avanti perché questa alleanza tra Comune, Camera di Commercio e gli operatori riesce a dare ulteriore valore aggiunto all'opera specifica di marketing, di promozione internazionale della città, di supporto ai voli, ma tutti gli operatori stanno appunto lavorando verso uno stesso obiettivo, su risultati che sono sempre in incremento e ancora potranno esprimere anche in questa estate i loro numeri positivi. C'è di bello finalmente che in una conferenza stampa si parla di qualcosa di positivo e in effetti la città lo ha dimostrato perché in vent'anni si è quasi raddoppiato il flusso dei turisti e lo vediamo continuamente in ascesa. Ultimamente Mafalda Papa, che è la presidente degli albergatori dell'ASCOM, ha dichiarato, lo dico perché gli albergatori mugugnano sempre, che è l'aumento quest'anno del 10% dall'inizio dell'anno, che è un dato sicuramente straordinario. Bisogna pensare anche al fatto che le condizioni geopolitiche dell'Europa consigliano ai visitatori di starsene in casa nostra e in Europa e venire magari in questa città che ha scoperto due valenze straordinarie, la cultura, la bellezza del luogo e la riviera vicino, cinque terre incluse che quindi fanno sì che molte nazionalità, soprattutto i francesi che sono appassionati di questo modo di fare turismo legato alla cultura, riempono i nostri alberghi così come fanno i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli e quindi e poi soprattutto gli italiani. Una serie di eventi che si sono accumulati, che quindi danno un cestino di un prodotto Genova che funziona, sia perché Genova ha un nuovo marchio interessante, Genova More Than This, che fa capire in maniera subliminale che c'è molto di più. Una comunicazione sul web, di web 2.0, che sta funzionando, perché ormai chi si muove, anche chi non è più giovanissimo, va a progettare il suo viaggio su internet e poi il fatto che a Genova per esempio la questione delle botteghe storiche sta diventando un fatto importante insieme ai palazzi dei Rolly, i Rolly Days che sono diventati un must. Quindi non parlo poi di tutti gli altri eventi che si continuano a inannellare dal pezzo della poesia, Salone Nautico che rinasce e il fatto che ci sono eventi legati alla cultura, alle mostre di Palazzo Ducale, un sacco di cose di grande effetto. E poi c'è una cosa da dire, la devo dire, Carla non è qui, ma da quando c'è Carla troviamo facile e anche naturale fare le cose di comune accordo, che vuol dire che se sommi il prodotto delle due dazioni di denaro lo moltiplichi per 4 e non più per 2.